124 eraclito di efeso 535 475 avanti cristo filosofo uno dei maggiori pensatori presocratici considerato il pensatore oscuro per eccellenza egli stesso nutriva sfiducia nella possibilità che il suo scritto potesse essere compreso dalla maggior parte degli uomini in frammento dice la saggezza è virtua altissima ed è sapienza dire e fare cose vere dando ascolto così da conformarsi alla natura commento la non comprensione dei suoi scritti forse dipendeva dal continuo riferirsi di eraclito alla natura cioè al poco a cui può giungere la mente